In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, ben ritrovati per questo commento al Vangelo della Domenica. Domenica prossima il Vangelo che leggeremo nelle liturgie Vetu Sordo è quello tratto da Matteo capitolo 5 versetti dal 20 al 24 In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scrivi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli. Avete udito che fu detto agli antichi non ucciderai e se qualcuno uccide sarà passibile di giudizio. Io però vi dico chiunque si adira contro il suo fratello sarà passibile di giudizio. Chi al suo fratello dice racà sarà passibile della genna del fuoco. Se dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e là ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te lascia la tua offerta là davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e soltanto dopo verrai a presentare la tua offerta. Ecco, carissimi fedeli, in questo capitolo del Vangelo Matteo prende in esame i principali comandamenti della legge antica, della legge di Mosè e ci mostra come Gesù è venuto non ad abolire i comandamenti ma a completarli, a portarli a compimento e quindi il Signore mostra anche la differenza che c'è tra quello che gli antichi osservavano e insegnavano con la sua morale, il suo concetto di giustizia che supera quello, il concetto di giustizia che avevano gli antichi e che gli scribi e i farisei insegnavano nelle sinagoge. Gesù comincia questo discorso dicendo se la vostra giustizia cioè il vostro concetto di giustizia di ciò che è giusto non sorpasserà quindi deve essere migliore il vostro concetto di giustizia rispetto a quello degli scribi e i farisei. Gli antichi hanno detto non ucciderai nel quinto comandamento non ucciderai ma io vi dico non solo di non uccidere ma vi dico di più di evitare persino l'ira contro i vostri fratelli. Già il semplice arrabbiarsi verso gli altri è qualche cosa che io abborrisco. Il quinto comandamento non va osservato soltanto nelle estreme conseguenze pratiche concrete l'omicidio, la morte di un nemico ottenuta per omicidio ma bisogna osservarlo anche nei risvolti intimi della persona cominciando dalle intenzioni e dai sentimenti che proviamo verso gli altri o contro gli altri. Certamente l'ira qui viene sottolineata in modo particolare chiunque si adira contro il suo fratello ma anche chi parla male contro il fratello qui fa l'esempio di insulti insulti per esempio dettati dall'ira la parola racca chiunque dice racca sarà passibile della genna del fuoco persino chi insulta nell'ira il fratello dicendo racca che vuol dire imbecille nella lingua aramaica è passibile della genna del fuoco quindi è un peccato mortale l'adirarsi e l'insultare i propri fratelli. Poi aggiunge se dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e là ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te lascia la tua offerta là davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello quindi il Signore ci fa capire che non solo si può peccare gravemente con i sentimenti e con le parole contro i fratelli sempre in relazione al quinto comandamento ma si può anche correre il rischio più grave della ipocrisia cioè di presentarsi tranquillamente davanti al Signore con le nostre offerte negli atti di culto che può essere per gli ebrei erano le offerte che si portavano al Tempio offerte in natura offerte in denaro per noi cattolici e cristiani è il sacrificio della Santa Messa per esempio e le altre azioni cultuali e pubbliche certo sarebbe una grave ipocrisia e una grave falsità presentarsi tranquillamente davanti agli occhi di Dio e mantenere nel cuore questi sentimenti di di odio e di ira e qualche volta anche espletati attraverso parole offensive verso i nostri fratelli quindi qui il Signore ci vuole proprio mettere in guardia dall'ipocrisia di un culto che non corrisponde che non corrisponde non può sussistere tranquillamente davanti a Dio ecco certamente qui dice che bisogna almeno fare qualcosa per riconciliarsi non è detto che le nostre iniziative per riportare la pace giungano sempre a buon fine a volte è molto difficile a volte quasi mai però almeno bisogna avere fatto qualche tentativo per riportare l'armonia tra le persone a quel punto una persona può presentarsi tranquillamente davanti al Signore perché da parte sua ha fatto quello che poteva fare e comunque ha cercato di togliere dalla sua anima sentimenti di astio di rancore di ira e di togliere quel linguaggio che dipende appunto dall'ira che si accende a volte nei nostri cuori sia lodato Gesù Cristo in nomine Patris e figli e spiritus santi amin